Segnalata dai nostri telespettatori a Dillo a Telerama la situazione della bellissima Scarpata sul Mar Grande. Ne abbiamo parlato con il presidente di AMIU, l'avvocato Mancarelli. La tenuta della pulizia per i vialetti che sono all'interno competono a noi e noi stiamo alimentando quanti più sforzi possibili per renderla quanto più appetibile ai turisti, agli avventori e anche ai tarantini stessi. Certo la condizione in cui versa non è delle migliori anche per l'inciviltà di poche persone, ci lavoreremo ancora, nelle prossime settimane e mesi ci saranno interventi importanti per il rifacimento totale e quindi siamo orgogliosi di poter proseguire nei cambiamenti che ci stanno avvenendo a Taranto. Una delle criticità della raccolta dei rifiuti è sicuramente quella che riguarda la differenziale con i contenitori, soprattutto nel borgo, che non soddisfano gli utenti. Bene, è inutile non sottolineare il fatto che ci siano delle criticità. Con noi facciamo ammenda, stiamo avviando con la direzione ambiente, voglio sottolineare con una sinergia rinnovata, importante, questo nuovo contratto di servizio che vedrà l'avviamento qui nel borgo del nuovo sistema di raccolta porta a porta. Ecco chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini perché è una rivoluzione quella di fare la raccolta differenziata ma soprattutto ecco noi la nostra sfida è quella di migliorare. E il presidente Mancarelli fa anche delle valutazioni di tipo economico finanziario. Abbiamo migliorato i range economici dell'azienda di oltre 2 milioni e mezzo di risparmi, è un dato importante, certo ne è risentito un po' la pulizia, ma quest'anno già ci sono i primi segnali positivi che avverranno nelle prossime settimane in maniera più massiccia.